Colletti, sulla vicenda Carichietti, voi questa mattina in conferenza stampa avete denunciato il silenzio delle istituzioni, perché? Noi partiamo da una vicenda specifica che è un finanziamento di ben 32 milioni di euro alla vecchia fondazione di Cuccarese, in cui c'entrano molti politici e in cui sono stati fatti da parte di imprenditori i nomi di D'Alfonso e Lignini, per arrivare a dover capire cosa è successo in tutti questi anni dentro Carichietti. Cos'è successo dentro Carichietti in quanto a finanziamenti, in quanto a occultamenti, in quanto alla presenza della politica dentro Carichietti e del perché la magistratura si è svegliata anzi troppo tardi su questa vicenda. La magistratura avrebbe dovuto intervenire ben prima, adesso sta intervenendo con molta lentezza e quindi proprio per questo motivo noi proporremo, appena entrati in Parlamento, l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta solo sulla Carichietti, perché quello che è emerso dalla Commissione generalista sulla Stato e le banche non è assolutamente sufficiente. Oltretutto Carichietti era una banca che, anche secondo la sentenza di fallimento, in realtà non doveva fallire ed è stata fatta fallire apposta da Banca Italia perché doveva rientrare in un accordo generale con l'Unione Europea.